Dopo la notifica recapitata nella giornata di ieri alla Tercop con al suo interno la determina di sospensione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento nella città di Teramo, questa mattina la cooperativa sociale ha tenuto un zittino sotto la sede del comune per protestare, un atto che se non revocato porterebbe alla fine della Tercop e con essa la perdita di posti di lavoro per i 29 dipendenti. Sulla situazione il sindaco D'Alberto ha incontrato una delegazione dei lavoratori per cercare di trovare una soluzione tampone alla delicata vicenda. A 30 giorni praticamente il sindaco ha dato oggi, ci ha esposto le sue idee, che ha ribadito sostanzialmente quello che ha detto in consiglio comunale martedì scorso, cioè la gara giustamente va fatta, ha dato indicazione di predisporre la gara, è esposto ai dirigenti delle problematiche, delle criticità, nell'eventualità venisse sospeso il servizio fra 30 giorni, cioè praticamente il comune avrebbe un danno economico di oltre 70 mila euro, la Tercop chiuderebbe i battenti, 29 persone disoccupate e nemmeno il commercio ne guadagnerebbe perché con la sosta statica sarebbe un disastro e non basta certo il disco d'orario per garantire il ricambio. Quindi adesso siamo in attesa, noi per prima, la stessa ovviamente amministrazione, della risposta di questi dirigenti che dovrebbero in alternativa appunto, per evitare questa ipotesi, dovrebbero predisporre degli atti che potrebbe essere, ovviamente non sta a me dirlo, potrebbe essere non una proroga, magari potrebbe essere anche in teoria un nuovo affidamento provvisorio fino a fine anno, per il tempo per fare la gara, che noi ovviamente condividiamo perché abbiamo sempre detto che le gare vengono fatte, ci darebbe la possibilità di presentare la nostra offerta. E quindi adesso rimaniamo un pochettino in apprezzione per sapere la risposta degli uffici comunali.